siamo già al post scusa allora dovevo dire questo è un posto ottimo da invece c'è un vabbè devo ammettere che non avevo un'altra opinione di voi l'ultima volta che siete stato a Tassim artista affamato e tutto il resto oh ma sei un mugnaio non so se non è che sei boh Leonardo da Vinci ma che cos'è cambiato interessante perché nemmeno io ho un'altra opinione di voi questa potrebbe essere una risposta ambigua del tipo adesso ce l'ho oppure adesso è peggiorato ma io non glielo dico no lasciamo lui intendere quello che vuole beh proviamo questo un attimo non comportatevi come se fossimo se non fossimo simili maler entrambi abbiamo avuto successo posso capire che fare mugnaio sia un gradino sopra il contadino che deve tra l'altro coltivare campi altrui alla fine perché non sono loro mentre dice il mulino è suo molto probabilmente da come ne parla però ha il successo mi sembra un po' sette anni fa alloggiavate in una catapecchia fatiscente di contadini allora penso la sua casa forse si la sua casa è un attimino più allora a parte a parte nord del villaggio forse sono case di legno un po' più elaborate infatti se ci pensiamo a sud ci sono i contadini il palo di tassing e a nord ci sono invece c'era appunto il fabbro c'era quello che stampa c'è il medico si può essere ok e anche lui si trova a nord infatti del villaggio ora siete un maestro che gestisce il suo laboratorio l'orimberga sei invidioso da questo giudica le persone vedi in base al successo un po' più un genio anche lì voglio dire anche lì il discorso successo uguale persona speciale è una cagata pazzesca non vuol dire vuol dire assolutamente anzi ci sono uomini intelligentissimi che non so appunto fanno filosofia e non hanno un soldo oppure scienziati persone con il cosiddetto elettivo molto alto nel loro campo ovviamente ma non per questo fanno soldi qualcuno invece ha avuto come dire l'idea giusta e si è messo a fare anche business come sappiamo un po' la silicon valley eccetera però è una rarità di solito persone appunto interessate non so di massimi pensieri non sono legate ai soldi eppure che vuol dire sono persone più speciali di lui di milioni di volte uomini come noi creano da sé la propria fortuna è stato vostro padre sostituire costruire il mulino dopo un po' di vagabondaggio nel mio caso è questo è qua continua a metterci di fronte a risposte che possono appunto stizzire possono irritare lui però dai proviamo il vecchio mulino io ho costruito questo l'unico mulino vento in tutta la baviera con la sua fortuna adesso andrea scalca la mano l'ha inventato tu mulino vento non è questo il punto abbiamo costruito qualcosa per noi stessi il mulino te lo sei costruito per te stesso non lui intende la fortuna però peter gertner lavorerà nello stesso campo di suo padre finché non stramazzerà jorg farà lo stesso i contadini chiedono il mondo ma non riescono nemmeno a capire cosa c'è al di fuori del loro piccolo appezzamento di terra tra l'altro c'erano dei libri che mi sono piaciuti molto non so se li fanno più leggere alle penso le superiori o le medie comunque sono di in italiano ignazio silone fontamara in particolare meriterebbe di essere detto fontamara poi c'era anche una manciata di more che mi era piaciuto molto e parlo soprattutto fontamara dell'ignoranza appunto dei contadini sfruttata poi lì era sotto regime fascista gli facevano firmare le carte che loro non sapevano neanche leggere firmavano con la x e magari perdevano tutto si si appunto come dice Matteo dice se non avevi i soldi del padre comunque sarei citato come quelli che criticavi ma è questo che ti sto dicendo per questo che dico che uno un elitista mettiamola così uno che ha questa idea di credersi superiore agli altri in questa maniera per me fondamentalmente è o uno stupido o un narcisista nel senso psicoanalitico del termine cioè malato malato di testa praticamente in un certo senso perché non come cavolo fai a non vedere questa cosa come fai a non vedere che comunque eri un privilegiato che comunque sei partito da una da una base migliore di questo york di cui parli e tolto questo anche se come per esempio i self made men di oggi o meglio dal novecento in poi che sono entrati anche miliardari e anche lì ci aveva tutto a discutere su come sono altri miliardari e il fatto che tu puoi essere diventato miliardare non vuole dire che sei un genio una bellissima persona una grande persona cioè non vuol dire niente bisogna conoscerti e semmai giudicarti poi a parte comunque ognuno ha le sue idee su chiunque ognuno le proprie idee su se stesso e anche sugli altri quindi magari senti uno non so come è mamma non so chiama dice definisci magari molto intelligente una persona che per me magari non lo è perché ognuno ha le sue prospettive ognuno la sua intelligenza e quindi anche lì arrivi fino a un certo punto a giudicare un altro a sua volta te potresti essere giudicato in una maniera diversa come ti vedi da un altro cioè nel senso sono anche cose relative oltretutto cioè c'è comunque del relativismo in questa cosa qua non riesco nemmeno a capire cosa c'è al di fuori del loro piccolo appezzamento di terra cosa vuol dire non l'hanno visto il mondo molto probabilmente tu l'hai visto e cosa vuol dire che non capisco come c'è al di fuori del loro appezzamento di terra dipende io so un sacco di cose ma dove porterà questa conversazione questa ribellione da parte dei contadini non andrà a nessuna parte vabbè perché non andrà a nessuna parte se non finisce il massacro è già una conquista che finisca pacificamente una la violenza non vinceranno bene perché il mondo funziona così adesso dimmi questa frase perché se hanno bisogno di un capo respiratorio per la morte di Otto cercatelo in Martin Bauer perché viene di nuovo tirato fuori Martin perché avrebbe dovuto uccidere Otto domanda a Andreas Martin non voleva sostenere la piccola ribellione di Otto era abbastanza contento di come stavano le cose questo motivo per ucciderlo qualcosa è cambiato in recente penso che Otto avesse scoperto qualcosa che Martin non voleva svelare questo dubbio ce l'abbiamo già da un pezzo finora se dobbiamo fare i conti Martin potrebbe sembrare sì l'unico parte del discorso di Anna che dicevano che faceva le visite alla Rathouse come sappiamo è un edificio in costruzione quindi non ha senso che andava alla Rathouse che non esiste ancora qualcosa di abbastanza terribile da far cambiare idea a Martin qualcosa di abbastanza terribile da far cambiare idea a Martin all'opporre resistenza a Otto è passato a sostenere con tutto il cuore di fronte alla città ok come dire che è stato ricattato da Otto tutto qui quali prove ci sono che fortuna che stai mangiando con Vennar e Baltas quando è avvenuto l'omicidio credo che fortuna Martin non sappiamo ancora se non è Martin ovviamente boh c'è questo dubbio però che ci sia un Sousa identico a lui comunque cosa devo dire che fortuna che stai mangiando con Vennar e Baltas quando è avvenuto l'omicidio perché che fortuna che sfortuna perché non hai visto colpevole in questo modo oppure entrare a dire che fortuna se non stessi morto anche tu non lo so quale parole ci sono provatele se Otto lo ha scoperto qualcun altro deve saperlo o almeno avere dei sospetti abbassatevi è lì lo vedete andate avanti io vi seguirò se mi spari la schiena ma che fa allora la frezza che devo premere A non mi specifica nulla avete mancato di poco ho sentito il proiettile volare oltre la mia testa meglio che sentila nella parte posteriore del vostro cranio ammetto che non è l'arma più precisa ma alla fine ha colpito il bersaglio che privilegio non farmi saltare in aria la testa dal mio compagno di caccia che bastardo sono tutte e due abbastanza aggressive come risposta rilassate e male state bene troviamo il cervo non può essere andato lontano non è ancora morto sembra che entrambi l'abbiamo ferito ma non abbastanza abbastanza facile uccidere una stupida bestia quando è impotente sembra che proviate il pacere nel sopraffare le creature indifese non diciamo nulla dai questo l'abbiamo anche capito che che lui gode nel sentirsi superiore in un modo o nell'altro o se sporcato di sangue comunque troviamo un bastone a lungo per trasportare il cervo e che è una casa sì come dicevo appunto a rifletterci a nord c'erano le cose più lussuose pietra il legno e l'altra parte sono le baracche baracche capanne case è stata una buona caccia grazie per essere venuto con me grazie per avermi invitato sono venuto con voi sperando che mi diceste qualcosa di utile sulla morte di otto l'ho fatto forse non era quello che volevate ma in fin dei conti non mi frega nulla di quello che volete avrebbe sgozzato lui pensate a quello che ho detto a proposito di martin proviamo ad andare a parlare con la moglie di nuovo non dire nulla non diamo in sostituzione bene come volete buona fortuna andreas agli 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 è passato il staranno tutti aspettando di sentire le mie prove andare in città di essere pronto a nominare un sospettato il segreto di martin cioè non abbiamo il tempo per indagare andiamo un attimo dio ti benedica ai dobbiamo parlare ecco la martin rivita veni trovato andreas avevi bisogno di qualcosa anche con lei è stato strano dialogo no mi ricordo che non avevamo passato il test trattamento che wolf non c'è più vorrei portarti le mie connoianze non me lo ricordo questo mi dispiace dimenticato quello che volevo dire ok vediamo questo grazie e cerco di non pensarci non vuoi ricordarlo sì certo che lo vogliono è difficile ok formazione a ruotore ci ha parlato 3 se si legge giusto però in realtà è mentito sulle tue intenzioni è stato martin l'omicidio vato 1 vabbè ecco qua siamo fregati alla fine con lei qua siamo fregati non c'è da fare fatti vuole parlare di lui in continuazione sai aspetta un attimo catela cos'era la sorella forse forse la sorella che ha avuto il figlio con vabbè se non mi ricordo di dettaglio ogni notte in cui il cielo è sereno lei alza lo sguardo e mi chiede se penso mai a come stia lassù è straziante di esatto mi dispiace andrea se non riesco a parlarne oltre sbagliato oh cavolo c'è scritto bello rivedermi dove andare alla prossima presto vediamo un attimo no diario una bacia di cassa è stata sgradevole fatale per uno sfrutturato c'era mi ha segnato martin bauer come potenziale assassino alludendo vagamente a un segreto che ottimo aveva scoperto è stato particolarmente utile tutto sommato e scommetto che se parliamo con con martin non ci parlerà allora karine vedo di franz bauer madre di martin e allora quella di fuori catador suo figlio da quando è tornato ad otassi non è menzionato ma è detto che è suo figlio quindi un altro un altro figlio quindi ventabilità niente è solo la moglie di andreas come ti senti dopo quella rissa bra che tu sia sfuggito al peggio la rissa che c'era era venuta al alocanda no non volevo rischiare nulla con quel mercenario oh è un duro questo è certo non si sa mai con quei lanzichenecchi la moglie su parte loro non fa altro che pisciare e bere birra ci siamo imbattuti in uno di quelli veri comunque è un piacere vederti dopo tutti questi anni eh appena ti accuso accuso che poi attenzione anche qua allora guy potrebbe volere poteva volere morto 8 perché sennò lo denunciava e sarebbe stato fuori mettiamo che appunto lui stia rubando rubandola il monastero per aiutare ma era un parente una sorella quello che è non voleva essere scoperto però di per sé boh da lì a uccidere una persona sarò cioè io penso con la mia come se fosse al suo posto da lì a uccidere una persona e poi anche appunto l'abata dice no io conosco guy conosco il suo cuore eccetera eccetera martin al suo tempo va bene metti che mettiamo che martin non è martin ma siamo un altro 8 sapeva la verità lui si è piegato a quanto pare no cioè lui era contro 8 ma poi si è piegato è diventato un fervente sostenitore di 8 ma da lì poi ad ammazzarlo cioè ormai tanto lo sta aiutando poi anche lì metti che lui martin non sia martin va bene ma brigitta che gliene frega cioè nel senso brigitta potrebbe rimanere scioccata ma comunque l'ha sposato ha sposato chiunque lui sia ha sposato questo no ah sì sì ecco è giusto Matteo ecco questo non me lo ricordava perché c'era il dottore che aveva parlato una cicatrice che poi non ha più ritrovato e quindi dici non può essere lui perché la cicatrice cioè non svanisce neanche oggi con il laser eccetera quindi figurati all'epoca quindi se non c'era la cicatrice vuol dire che non è lui per forza in teoria c'è il 99,9% non è lui però ripeto si era già piegato no cioè a quanto pare si era già piegato perché avrei dovuto ammazzarlo fatto cioè lui ha metti che Otto l'ha ricattato e ha detto se invece di essermi d'ostacolo non mi aiuti io dirò questo a tua moglie o a tutti no vabbè lui si è piegato basta finito lì il discorso no anche perché ripeto se dovesse ragionare dico ok allora dire in giro chi se ne frega nel senso e ormai sono anni che è tornato o meglio che qui al villaggio chiunque lui sia sono anni che qui al villaggio è stato anche accolto meglio di quanto non fosse stato accolto Martin o di quanto non fosse stato sopportato Martin voglio dire quindi Guy non sembra avere un muovente abbastanza solido lui sembra non avere un muovente abbastanza solido Anna Anna qual era il motivo di Anna che avrebbe potuto volere morto 8 Anna tra l'altro l'unica che ha ha detto che è andata sul che è andata alla ratausa più di una volta no? come se andasse là come se fosse andata là a studiare un modo per dire far cadere qualcosa e uccidere 8 no? l'unica che c'è proprio quasi una cosa diretta volendo però Anna che qual è il problema di Anna? ah sì il problema di Anna è che ecco se mi viene in mente che temeva che Otto avrebbe fatto chiudere il monastero e quindi la fonte di guadagno principale che è la reliquia del monastero che portava a lei dei clienti servono stati nei guai no? perché appunto se succedava un casino la reliquia non si è resta più loro non avrebbero più avuto i pellegrini però sì poi c'è da dire che di solito si dice che il veleno è l'arma delle donne vabbè lì non è stato usato il veleno diciamo che sembra che sia stata al massimo aiutata piuttosto se vogliamo metterla tutta e quindi boh abbiamo tre tre mi sembra almeno o ce n'è qualcun altro tre potenziali assassini che che non mi convincono nessuno di tre perlomeno per me non sono motivi sufficienti è vero che se tu guardi i CSI sembra sempre che la gente possa ammazzare per motivi totalmente futili come la gelosia l'invidia magari esistono anche questi ma su un totale di omicidi mi sa che la maggior parte sono gli attacchi di follia cioè è perso il controllo e poi altre volte ci siano le motivazioni più serie oppure c'è il di mezzo alla criminalità organizzata cioè quindi ti ammazzano perché ti avevano avvisato non hai pagato il pizzo eccetera e servi da esempio ti ammazza ma dici se non ti ammazzo noi siamo dei buffoni ti devono ammazzare perché così gli altri pagano il pizzo e quindi comunque motivo un attimino più più lavorato insomma dell'invidia dunque sono soppeso che tu lo dica il tuo parola di comiato nei miei confronti a loro non sono state affatto gentile però ecco questo anche qua io se fossi il sceneggiatore mettendo questa frase lascio intendere che magari marty potrebbe dire ah non me lo ricordo no perché non dovrebbe ricordarselo davvero ah vedi è passato così tanto tempo non ricordo in teoria dovrebbe ricordarselo l'avevamo fatto incazzare perché l'accusato di aver rubato roba al barone eccetera eccetera insomma non può ricordarselo mi hai detto di andare a farmi fottere davvero tremendo ero proprio uno stronzetto ah ah sì ma dai non è lui vediamo se riusciamo a portare se ci permette lo sceneggiatore di andare su questo mi dispiace se mi comportava da idiota allora no vedi che non ce lo lascia fare sembra che tu avevi imparato molto allora c'è motivo di sentirti a disagio è stata molto tempo fa non ci lascia rispondere tipo ma come fai non ricordartelo sembra che tu hai imparato molto allora a tal punto di non essere la stessa persona sette anni sono un tempo lungo per un giovane specialmente per come ero allora pensa che dieci anni mi sembra che durino due anni a me e comunque che cosa ti è successo giusto sai che ho rubato alcune delle cose del barone questo lo sa questa cosa lo sa può anche averla confessata l'altro vero martin diciamo però non ero andato lontano tuttavia ho provato a vendere a al ligau e sono stato derubato ben mi sta immagino se fortuna non hanno trovato le monete che avevo con me quei soldi mi hanno portato in giro per la baviera per un altro mese e mezzo poi ho iniziato a rubare sono diventato più grande e più sicuro di me nel tempo e sono diventato un bandito anche estremamente sincero tra l'altro ma siamo sicuri che possiamo fidarci se l'aveva detto Werner il medico Werner mi sembra questa storia della cicatrice era un bandito difficile a credere lo so ma si ad ogni modo non è durato a lungo alla fine mi sono spaventato avevo un partner nell'ultimo anno avevo un partner nell'ultimo anno delle mie avventure io ho cercato di derubare alcuni italiani pensavamo che fossero mercanti che viaggiavano sotto la bandiera di San Giorgio mafiosi mafiosi del 300 ma erano soldati a guardia del denaro della banca di San Giorgio a Genova che è un'altra cosa insomma esatto ho preso in seguito mio compagno non è sopravvissuto all'incontro ecco il tuo compagno è vero Marty e tu ti sei dato la macchia fingendosi lui ero ferito e solo nel bosco ho pensato a mio padre a mia madre a Brigitta mi sono reso conto che non riuscivo più a ricordare la faccia di Wolf ma Wolf è mica il loro figlio a proposito di qua mi piace perché mi fa vedere il bambino e basta ma scrive qualcosa era il loro figlio Wolf lo c'è traccato va beh perché la nonna adesso dovevo tornare a assumere responsabilità che mi hanno lasciato alle spalle boh a me sembrerebbe anche lui è bello che tu l'abbia fatto per il bene in tutti tornare a essere difficile responsabilità sono sopravvalutata va beh che risposta questo qua del non si chiama idonista non è che ci abbia dato chissà che che risposta possibilità tornare è stato difficile sì mi sentivo come se fossi passato un'altra vita in questa mi ci ho voluto un po' per abituarmi a tutto per ricordare come erano le cose allora se se non sei e sua mamma quindi è la nonna del figlio di lui defunto è acqua passata ormai ho solo bisogno di guardare avanti martin chi sei che vuoi dire come è una stolza ha detto che hai perso una cicatrice per strada tanto non dobbiamo farlo prima nel prato ho notato che non stanno utili un altro indizio questo allora quindi in qualunque caso lo accusiamo di non essere lui però è più è più importante questo diciamo questo verrà ricordato che cosa mi sono fatto quella cicatrice quando ero bambino è migliorata ha detto che è scomparsa cioè nel senso ci sta che crescendo non so una cicatrice che sembra grande da piccolo poi come dire però lui ha detto che è scomparsa no che è migliorata cicatrici così grandi non scompaiono mai non completamente questo verrà ricordato è l'unica che abbiamo beh la mia sì prima nel prato non si stiamo prima nel prato ho notato che non stanno utili questo verrà ricordato boh vediamo cosa succederà anche questo è ricordato ovviamente allora allora ragazzi udiavi quel prato ti faceva stanno utile di continuo vabbè è cambiata è cambiata la flora la madre ne ha persino parlato allora sono andato avanti ora sto bene non so se le allergie passano può essere però no penso che potrebbero passare il va bene smettiamola con queste sciocchezze è iniziato tu non so dove vuoi arrivare tutti su perché non la metti e basta è cambiato il naso e assi nel senso quello un fatto come fallimento ma che basta basta che se non faccio alto f4 e quinto ma che cosa vuol dire fallimento non c'è una sola cosa perché sta vaneggiando che ti ha preso andreas lui comunque è tranquillo lascia perdere non devo restare qui ad ascoltarti no è solo basta che mi stai alla larga va bene si può parlare salve salve siccome se nulla fosse fatta non dice nulla e non siamo riusciti a farlo io a mettere però va a parte che intendiamoci possiamo aver detto tutto giusto ma se uno non vuole dire non vuole dirlo quindi non vai chiuso allora andiamo davanti un attimo c'è un obiettivo là ah ok la piazza del comune piazza comunale mi sa mi sa che lì è il San Giorgio guardia pretoriana del che numero sarebbe con lui è il patrono dell'Inghilterra è noto soprattutto per la sua leggendaria vittoria contro contro un drago mi piace perché poi non non aggiunga nulla dice devo anche cercare il bosco qua è uguale è rimasto sempre uguale che è rimasto che è rimasto